Un nuovo misterioso nemico appare dunque all'orizzonte, ma nessuno ha ancora il tempo di realizzarlo. A seguito della cerimonia di diploma per le classi terze, Shoto decide dunque di non andare subito alla festa indetta dalla prima A, andando invece a trovare proprio lui, suo fratello Toya. Ed è proprio oggi, in questo primo dei cinque capitoli, raga, che ci accompagneranno al finale, che effettivamente si chiude la prima storyline forse più importante di My Hero Academia. Oggi, infatti, raga, si chiude la storia della famiglia Todoroki e si chiude nel modo più tragico possibile immaginabile, ma non solo. Oggi, infatti, vedremo concludersi anche le storyline di altri ben quattro personaggi. Insomma, si vede che siamo arrivati al finale e anzi tutto ciò che vediamo oggi ci proietta quello che sarà il mondo di My Hero Academia, non solo a seguito della sua battaglia finale, ma anche a seguito probabilmente dell'ultimo capitolo in uscita tra un mese. Iniziamo subito. Il capitolo si apre esattamente dove ci eravamo fermati nel precedente, ovvero con Shoto che decide di non andare alla festa indetta dalla prima A a seguito del diploma, ma decide invece di andare dalla sua famiglia, dalla sua famiglia che si trova in questo momento in questa, diciamo, struttura ospedaliera che ospita appunto quello che è il corpo di Toya. Finalmente abbiamo delle risposte circa il suo destino e io ve lo dico, sono delle risposte completamente inaspettate. Tutti noi ci aspettavamo la morte di Toya che, ragazzi, comunque sia, a seguito della guerra era a pezzi, lo sapevamo. Si era di fatto autodistrutto e il colpo di Grazia praticamente glielo stava dando Shoto, fermandolo attraverso le fiamme fredde, insomma, attraverso gli attacchi al fosforo. Ma io una roba del genere non me la sarei mai aspettata. Un finale più tragico di questo, secondo me, non ci poteva essere. Qui, infatti, vediamo tutta la famiglia Todoroki riunita per un'ultima volta. Vediamo Natsu che si è tagliato i capelli, vediamo per l'appunto Fuyumi che è leggermente bruciata in volto e vediamo Rei che effettivamente è piena di ustioni. Chi la fa l'aspetti, brutta! Ed è qui dunque che però arriva proprio lui, arriva Shoto, che si trova davanti a questa situazione familiare estremamente instabile, estremamente fragile anche. Il dottore, infatti, facendo entrare Shoto nella stanza, ci dà un'informazione fondamentale per quella che è la condizione di Dabi. Da questo momento in poi, Dabi, infatti, non è tenuto in vita, come avevamo teorizzato nello scorso video, in questa gabbia di contenimento, ma quello altro non è che un letto di morte. Dabi sta morendo, Toya, anzi, sta morendo lentamente, in modo lento appunto, e doloroso, sia dal punto di vista fisico ovviamente, che sotto il punto di vista mentale. E qui lo vediamo, raga, Dabi è uno scheletro ambulante, non si sa come faccia ancora ad essere in vita. E qui Endeavor chiede dunque di lasciarli soli un momento, perché è il momento di fare l'ultimo discorso finale, no? Alla sua famiglia, annunciando come prima cosa il suo ritiro da pro-hero. Quindi Endeavor, ragazzi, si ritira dalle scene. Una scelta che è coerente con quanto narrato, ma la cui motivazione, alla fine di questo capitolo, è emozionante, a dir poco. Ma vediamo cosa si dicono i ragazzi con Dabi, appunto. Qui dunque è proprio Endeavor, tra l'altro tutto fasciato e in carrozzina, ad iniziare il discorso. Iniziando dicendo una cosa, ovvero, io, Toya, figlio mio, volevo parlarti fin dal principio. Volevo parlarti ancora prima della battaglia finale, e invece ecco che sono costretto a farlo adesso. E Toya, ovviamente, risponde guardandolo dalla gabbia, e dicendo, beh, da parte tua è anche un po' codardo farlo adesso a cose fatte, no? Una volta che la battaglia si è svolta e quant'altro. Sei davvero un codardo. E qui Endeavor, ovviamente, Angie, anzi, da adesso in poi, gli dà ragione e dice, è vero. È vero, hai perfettamente ragione, ma ciò che ti sto dicendo adesso è che comunque Endeavor è morto. Endeavor è l'eroe che è morto bruciato. E qui, ovviamente, Dabi risponde e gli fa le condolianze, in modo molto ironico o sarcastico, volendola mettere sotto questo punto di vista. Endeavor afferma qui dunque che il suo obiettivo, da adesso in poi, nella vita, sarà proprio quello di andare a trovare Toya ogni giorno per potergli parlare fino a che, per l'appunto, il ragazzo non morirà a causa delle sue stesse condizioni fisiche. Ed Endeavor sa che comunque sia Toya lo odia. Endeavor sa che tutta la sua famiglia, in un qualche modo, lo odia o quantomeno prova rancore nei suoi confronti, ma dalla rivelazione di Dabi avvenuta durante la Prima Guerra, Endeavor non ha fatto altro che guardare il video del figlio giorno dopo giorno, in attesa di questo momento in cui effettivamente poteva andare a parlare al figlio. Ed è qui che, tra l'altro, noi vediamo la risposta di Dabi che dice, sì, io ti odio veramente con tutto il mio cuore, e che in questa tavola, in questo piccolo panel, assomiglia incredibilmente all'Eva01 di Evangelion. Cioè, non so voi, ma è letteralmente uguale. In una nuova visione, che abbiamo capito caratterizzare ormai quelle che sono le vicende della famiglia Todoroki, vediamo dunque nuovamente Endeavor, stavolta senza benda e quant'altro, in sedia a rotelle, parlare al figlio, che ovviamente riporta ancora le ferite di guerra, quindi sta senza un braccio, in questa visione dove però loro sono effettivamente lì, sani, vivi e vegeti, con l'intenzione nuovamente di Endeavor di andare a trovarlo giorno dopo giorno. E questo dialogo, veramente appassionato e reale da parte di Endeavor, con anche ovviamente l'inserimento di alcune parole o quant'altro per quanto riguarda Rei, che si dice anch'essa colpevole, Fuyumi e Natsu, genera in Toya un'emozione vera e propria, emozione data proprio da quello che è il suono proveniente, appunto no, dall'elettrocardiogramma, e che dimostra il fatto che anche Toya sta effettivamente ricevendo sinceramente quelle parole. E qui rientra in gioco un discorso che noi c'eravamo fatti moltissime volte e sul quale ho un po' cambiato idea, ovvero noi avevamo sempre detto che l'unico destino possibile per Toya era la morte durante la battaglia. E perché lo era? Beh, molto semplicemente perché Toya non poteva redimersi in alcun modo. Ma facendo ciò, dicendo ciò, noi abbiamo ignorato una cosa che Oricoshi ci ha detto da sempre, Oricoshi sensei ci ha sempre fatto capire una cosa, ovvero che i personaggi di Mayro Accademia sono scritti, nonostante i superpoteri e quant'altro, in modo estremamente realistico. E questo emozionarsi di Dabi, che dopo porterà effettivamente il ragazzo a piangere sangue praticamente, e vedremo anche il contesto che è molto emozionante, tutto ciò lo rende estremamente umano. Tutta la storia che lui ha dovuto vivere lo rende comunque sia una persona fragile in tutto e per tutto. E soprattutto, noi umani non siamo fatti di assoluti, abbiamo ovviamente delle linee guida, abbiamo dei comportamenti che ci autoimponiamo da rispettare, ma le nostre idee possono cambiare, anzi forse devono cambiare. E Dabi in questo momento, Toya in questo momento, si rende conto che forse ciò che lui aveva sempre voluto era questo, parlare tutti insieme, stare tutti insieme. Peccato che l'ho ottenuto nel momento sbagliato. Questa non è una redenzione. Dabi odia ancora tutti quanti, vorrebbe la morte di tutti là dentro probabilmente, ma un qualcosa in lui si rende conto che c'era la volontà da parte sua di andare d'accordo con la sua famiglia. E questo ci viene dato infatti proprio dal battito del cuore che fa rientrare in sala immediatamente il dottore che dice ok, il suo cuore sta battendo in modo un po' troppo forte, di conseguenza per oggi vi chiedo, vi chiediamo dal team medico di concludere qui i vostri discorsi perché altrimenti la salute di Toya sarebbe in un qualche modo messa a rischio totale. E Shoto dice ok, posso fare un'ultima domanda? Sì, certo. Shoto si gira e chiede Toya, qual è il tuo cibo preferito? All'inizio Toya non risponde e tutti quanti dalla famiglia escono fuori per l'appunto dalla stanza finché dal buio non emerge una parola, la soba. Quindi Shoto si gira, ovviamente si gira, e dice è anche il mio piatto preferito e qui ragazzi ovviamente rientra in gioco il discorso che Shoto aveva fatto con i ragazzi con Bakugo e gli altri prima della guerra, vero? Chissà qual è il suo piatto preferito e gli altri che rispondevano probabilmente gli Udon Caldi questo, questo e quell'altro invece è proprio la soba la soba proprio come Shoto che si gira e dice Onaji ovvero è lo stesso anche per me e qui nella mente di Toya si pongono di fatto a livello di memorie di ricordi i loro attimi durante la guerra ricorda ciò che ha fatto lui ricorda ciò che ha costretto Shoto a fare e Dabi inizia a piangere sangue e inizia a dire una cosa che a me ha spezzato il cuore ovvero scusa perdonami Shoto capite perché secondo me non poteva esserci finale destino più tragico per la famiglia Todoroki e tra l'altro il titolo di questo capitolo è proprio l'infernale famiglia Todoroki il finale e ci siamo ci siamo ragazzi dal lato Dabi Toya il ragazzo è destinato a morire e lo farà giorno dopo giorno in modo lento e doloroso ma supportato in un qualche modo da Enji Enji Todoroki che si fa carico adesso di tutta la questione familiare e dice anzi io sono sopravvissuto proprio per questo perché mi trovo in una situazione infernale ho accettato l'invito di Dabi a danzare all'inferno e adesso il mio compito da padre probabilmente è quello di far vivere a voi una vita che non sia in un qualche modo legata a me o allo scandalo di Toya e qui di fatto ragazzi ognuno nella famiglia Todoroki prende la sua strada Natsu dice che si sposa tra qualche giorno tra qualche mese settimana non lo sappiamo Natsu si sposa con la sua ragazza ragazza che non presenterà il padre innanzitutto forse gli altri della famiglia sì ma il padre assolutamente no e con lui non vuole avere niente a che fare mai più nella vita ed Enji risponde ovviamente lo capisco ti comprendo non ti preoccupare dall'altro lato Fuyumi invece si è dimessa dal suo lavoro ma ne ha già trovato un altro mentre Ray non sappiamo esattamente cosa farà mentre Shoto dice di aver trovato la sua realtà proprio alla UA con la classe seconda da questo momento in poi ci dobbiamo ricordare e infatti è in questo momento che i vari ragazzi salgono in macchina Enji invece rimane lì presso la struttura e Shoto per l'appunto dice io adesso vado no alla festa di diploma organizzata dalla prima seconda dalla seconda e qui secondo me questa festa si potrebbe avere proprio nell'ultimo capitolo finale ma vedremo se ciò accadrà o meno e dall'altro lato Ray dice nonostante comunque sia questa situazione infernale di cui ti stai facendo tu carico e di cui comunque sia anche io sono responsabile c'è anche da ammettere che fortunatamente qualcuno su cui possiamo ancora contare effettivamente c'è ed è in questo momento che Ray tira fuori il telefono e arriva un messaggio da Ox se è una storyline forse la più importante di My Hero Academia dopo quella di quegli altri ovvero Bakugo e Shigaraki si conclude abbiamo adesso anche la conclusione della storyline di Ox Lady Nagant e di altri due personaggi che a me piacciono particolarmente attraverso il suo messaggio Ox sta semplicemente chiedendo come è andato l'incontro con Enji e con Toya ed è qui che comunque sia la scena si sposta quindi proprio da Ox stesso Ox stesso che sta in smoking dice comunque sia in un qualche modo in questo inferno qualcuno è sopravvissuto qualcuno a nostro supporto c'è e quel qualcuno è proprio Ox Ox che diventa secondo una teoria che avevamo anche detto il presidente della commissione della pubblica sicurezza e cosa fa come prima cosa in quanto presidente per quanto ne sappiamo andare a trovare nostra moglie Lady Nagant e proponendola insomma di rientrare comunque anche lei nella società degli eroi ma da un punto di vista più però appunto burocratico insomma dice vieni nella commissione di pubblica sicurezza e aiutami a cambiare le cose perché la società deve cambiare e noi possiamo effettivamente farlo abbiamo vissuto dice Ox delle situazioni nelle quali anzi che delle situazioni che ci hanno fatto capire come poter effettivamente andare a creare un qualcosa di migliore per le nuove generazioni e Lady Nagant però qui dice io Ox caro ti dico la verità voglio rimanere ancora qui in prigione voglio scontare ancora la mia pena anche perché ho paura di essere sfruttata nuovamente quindi per favore lasciami il mio tempo e anzi sai che ti dico resterò qui sfruttando e anzi mangiando sulle tasse dei cittadini giapponesi che pagano per l'appunto il sostegno alle prigioni e quant'altro e qui Ox si mette a ridere e dice sei proprio una vera villain e anche qui dunque abbiamo la conclusione delle storyline l'abbiamo capito di Lady Nagant da un lato che diciamo che probabilmente perseguirà la strada della redenzione lei si che lo può fare e che secondo me un giorno comunque sia potrebbe tornare in società a fianco proprio di un Ox presidente della commissione per la pubblica sicurezza un ruolo ecco qua la seconda storyline che si chiude a livello di personaggi quella di Ox che veramente gli dà la sua importanza Ox anche si ritira dalle scene come eroe dando spazio quindi insieme ad Endavor alle nuove generazioni di Eros e qui secondo me vi ripeto come sua conclusione è perfetta nello stesso edificio quindi presupponiamo in questa prigione abbiamo però anche adesso la chiusura di un'altra storyline quella di due dei miei personaggi preferiti in assoluto in Miro Accademia ovvero Gentle Criminal e la Brava che vengono rilasciati ebbene si hanno contribuito a trattenere i ricercati insomma durante l'evasione totale hanno collaborato a sconfiggere All4One possono vivere da adesso in poi la loro storia d'amore in pace e soprattutto in libertà quindi io mi aspetto da Gentle che diventi un grandissimo content creator da adesso in poi supportato dalla Brava e i due li vediamo veramente scoppiare in lacrime e l'ultima pagina del capitolo ci apre a quello che secondo me sarà un dialogo fondamentale tra Deku e Spinner un dialogo che dovrebbe avvenire a livello generale lo sappiamo Shigaraki aveva chiesto a Deku come ultima cosa di dire a Spinner che comunque sia Shigaraki aveva lottato per la distruzione di qualunque cosa fino alla fine e infatti nell'ultima tavola Ox piglia il telefono chiama Mera che è uno per l'appunto della commissione generale della pubblica sicurezza e l'ultima tavola anzi nell'ultima vignetta di questa tavola noi vediamo per l'appunto Spinner risvegliarsi in ospedale e di conseguenza capiamo bene che nel prossimo capitolo probabilmente avremo il finale anche della sua storyline con l'entrata nuovamente in scena di Deku probabilmente sì almeno secondo le mie teorie a voi invece è piaciuto questo capitolo fatemelo sapere nei commenti ma raga ci siamo 4 capitoli e finirà tutto ok